E ciao a tutti ragazzi sono Mattiz e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite Season 2 Apro subito questo regalo, non chiedetemi perché, ma Firefox Andrea mi ha regalato questo bellissimo paletto Grazie mille davvero per il regalo Andrea Ciao Matteo Doria, un saluto da Ragnarok Oggi facciamo sul serio con lui Abbonamento in descrizione se ancora non siete abbonati Ho bisogno dell'account fortunato perché oggi andremo in partita a cercare l'arma più forte del gioco Avete capito bene Dovete sapere che uno scagnozzo nell'isola dell'agenzia, l'isola centrale praticamente Possiede un'arma d'oro potentissima Una pistola a tamburo che spara più veloce del normale e che dovrebbe essere overpower Il mio obiettivo è andarla a prendere e ne esiste solo una per ogni partita Di conseguenza su 100 persone che ci saranno soltanto uno la potrà avere Quella persona devo essere io e farci una vittoria reale Spaccate il tasto dei like se credete in me, condividete il video a tutti i vostri amici E ovviamente vi ricordo di supportarmi come creatore Ecco il secondo account non lo aprivo da un po' vi devo dire la verità E anche se non avete shoppato il pass battaglia, appena lo farete ricordate di usare il supporto a un creatore mattiz Ora però buttiamoci in partita Da come vi ho detto riusciremo a trovare quest'arma proprio dentro la casa centrale L'unico piccolo problemino che ho è che beh nel secondo account non metto mai le impostazioni giuste Infatti è tutto completamente a caso Vabbè non facciamoci domande L'unica cosa che dobbiamo fare in questo momento è prendere quell'arma e utilizzarla in partita Per vedere com'è sono davvero troppo troppo curioso Lo scagnozzo che utilizzerà quell'arma non è un normale scagnozzo È molto potente dato che ce l'ha E quindi io spero davvero di riuscire a gestirmela bene Prendiamo subito un'arma Il fatto che siamo riusciti ad entrare in realtà è molto buono Ma perché? Nooo C'ho ancora la cosa disattivata che non mi si vedono le armi Ma non ci credo Guardate in basso a sinistra amici Perché ho tutte le impostazioni a caso in questo account Vabbè sentite chi se ne frega delle impostazioni dell'account Qui abbiamo soltanto una missione ed è quella di Aspetta che qualcuno mi ha beccato eh Porca miseria porca miseria Ma è lui? Ragazzi ma è lui? Non ci voglio credere È lui ragazzi è il tizio d'oro È il tizio d'oro con l'arma d'oro No way No way questo è potentissimo Però posso farcela Posso farcela Dai che sei un po' là Raga i bug I bug I bug sono la cosa più bella di sempre Aspetta Shakeriamolo Shakeriamolo e prendiamogli la carta Spiamo tutto quanto E raga è lui? Guardate Guardate che ce la dà E guardate che ce la dà La pistola a tamburo di mida È incredibile Guardate Rarità mitica È rarità Cioè non è leggendaria l'arma È mitica Che è una rarità superiore a normale E in questo momento Ce l'abbiamo in mano Oltre alla carta elettronica dell'agenzia Che ci serve per rapinare la cassaforte Ma io non penso che ci riuscirò Guardate quanto è bella Ha una mimetica d'oro Ha una È tutta dorata E non l'ho messa io d'oro È proprio così Wow Non ci posso credere Sono riuscito ad averla E vi dico che l'avrei presa soltanto con questo account Perché con il mio principale ci ho già provato E ci va davvero troppa gente Ve lo giuro Guardate quanto cavolo è bella Pistola a tamburo di mida Mi tocca aggiustare Dai ma ci deve pure essere spiegato facilmente È il coso che mi fa vedere No sono in inglese Non ci posso credere No no La lingua inglese no Sento nemici Voglio utilizzare ovviamente l'arma eh Voglio utilizzare l'arma per vedere Di che cosa è capace Oh cavolo nemico Guardate quanto sparo a me Oh mio dio Ma mi state prendendo in giro vero No 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 Questa cosa è impossibile Non può essere così veloce un'arma del genere Cioè non so se avete visto raga Guardate Guardate eh 3 2 1 Mantenere la mira è a dir poco impossibile Ve lo giuro Però È divertente comunque Chi se ne frega L'adoro ve lo giuro Penso sia l'arma più bella della storia Dammi colpi medic Grazie mille Mamma mia Guardate quanto è dorata La pistola di mida Ne esiste solo una in game Sento un nemico sparare Ho bisogno di fightare contro qualcuno Vediamo dove mi trovo qui raga Mi sono praticamente perso Ah ok siamo usciti Bene L'importante era questo Oh c'è qualcuno che mi ha visto forse Travestimento Che cos'è Andiamo a vedere Travestiti da scagnozzo Ma che bello Ma non ci credo Che si può fare una cosa del genere E allora adesso da scagnozzo Andrò a uccidere questo nemico Che c'è qui sotto Ma che figata Ok ho ucciso uno scagnozzo Ho finito le munizioni Non ci credo Nemico Cavolo eccolo No no Muori Cavolo non c'ho vita Muori Oh yes Ce l'abbiamo fatta Bene 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 Dammi un po' di colpi No non mi dai colpi Significa che berrò questo E me ne berrò anche un altro Visto che ci siamo Io però il fatto che non posso vedere Mi da troppo fastidio Eh vi devo dire la verità Mi da davvero troppo fastidio Potremmo tentare di rapinare la banca Eh Cavolo Questo è un problema Questo è un problema Mi hanno visto Headshot E shakerá 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 Che figata Ok adesso tu No Sbagliato Cavolo abbiamo poca vita amici eh Abbiamo davvero poca vita Devo stare molto attento Salta Colpisci Spara Io spero che qualcuno mi dia vita Ma purtroppo no Loro non danno vita Posso dirvi solo che grazie a loro Sto caricando la mia pistola a tamburo Perché finisco sempre i colpi Tu devi morire E darmi le tue munizioni Bravo amichetto Raga quale situazioni son due O ce andiamo a prendere la cassaforte Oppure ce ne andiamo a giocare Io prenderei la cassaforte sinceramente Solo che non ho munizioni E quello è l'unico problema Oh oh Abbiamo compagnia No 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 Scherzavo 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 Porca miseria no Via da qui via da qui via da qui Raga m'ho perso la pistola di mida No Dove l'ho lasciata No vabbè ma sta pistola crea solo guai Il mio fucile Non so dove l'ho Ah eccola l'ho lasciata lì Bene E c'è anche un medikit qui che non avevo visto Siamo ancora in partita Posso dirvi soltanto questo Siamo ancora in partita Tranquilli amici Sono riuscito a mettere addirittura Il coso in basso a destra delle armi Adesso si che siamo dei veri pro Non chiedetemi perché fosse disattivato eh Ora possiamo davvero spaccare il mondo Ve lo giuro Prima però ci andiamo ad aprire questa cassa Che sicuramente ci darà una mano Bene Shieldini per noi Io raga vorrei rapinare troppo la banca Adesso che ho anche un po' di visibilità qui Dato che prima non sapevo quello che facevo praticamente Ho deciso Andiamola a rapinare Basta Allora lanciamo un tizio qui E distruggiamo questa ovviamente Bene Eccolo Bravissimo Lo sapevo che mi sarebbe servito Oh no Ma ho già finito i colpi Ma non ci voglio credere Allora Stiamo attenti alle telecamere che sparano eh No 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 Vieni qua bello Oh cavolo mi ha beccato Vieni qua ho detto No 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 Tu muori Grazie Tu invece te ne vai a casa Grazie ancora Apriamo qui dentro Ci stiamo avvicinando eh Sparo Bene Uccidiamo lui Ragazzi ci stiamo avvicinando Eccola E lei Allora te E intanto te ne vai Va bene ho deciso Abbiamo preso la pistola a tamburo di mida Se non riusciamo ad entrare con questa Siamo davvero fregati Se magari avessi qualche colpo in più Non sarebbe male come cosa eh Vi devo dire la più sincera verità Ma a quanto pare ci toccherà giocare in questo modo Ora Io questo lo devo headshotare completamente In questo modo Bene Poi dobbiamo rompere una telecamera che è qui Cavolo ma quanta vita ha Oh no Non pensavo avesse così tanta vita Siamo fregati Ragazzi Siamo davvero fregati in questo momento Stai calmo Concentrati Ce la puoi fare Ce la puoi fare No Eh Ho finito davvero tutti i colpi in questo momento No raga sono fregato Non ci voglio credere Se non trovo delle armi qui No 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 Scherzavo scusate Allora Facciamo così Tu Mi devi dare La tua Arma Ok Ora tu mi darai la tua arma E io non ti farò niente Tranne che ucciderti Bene Adesso noi molto tranquillamente No Mi hanno beccato ancora Torniamo qui E la distruggiamo una volta per tutte Bene Il problema sapete qual è E che c'è lei Ce n'è un'altra Vi ho detto che ce l'avrei fatta E ce la farò Fermi Fermi Qui non mi vede Qui mi vede Qui mi vede Qui mi vede Guardate il laser Ci provo eh Vai No Avevo solo un colpo Ok ok Concentrati Vai 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 Ok Bene 38 colpi rimasti No no Buttiamo uno scagnozzo Che è meglio va Scagnozzo qui No Non devi mirare a me Devi mirare allo scagnozzo Ma che cavolo fa quello Non può spaccare lì Non ci voglio credere Mori Ho bisogno di quella minigun Ho bisogno Di quella minigun Ho bisogno della minigun Ok 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 Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo È il momento raga È il momento Vai Vai Spacca tutto amico No 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 Io mi rifiuto Io ci vado di piccone Io ci vado di piccone Ho detto Ci vado di piccone Dai Ultimo colpo Sì Ce l'abbiamo fatta Senza rotture di scatole Tra l'altro Mi basta aprire qui Perché tanto ho la scheda Dov'è la mia scheda Ma perché lascio le Ma non ci voglio credere Non ci voglio credere No Sta arrivando anche la tempesta adesso Dove ho lasciato la scheda No 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 Mi son perso la scheda Ragazzi Non ci credo Dove l'ho messa Dove cavolo l'ho messa L'ho lasciata qui per il medikit No Forse l'ho lasciata qui Eccola È qui È qui È qui Corri 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 Non ti fermare Non ti fermare Non ti fermare Sì Ok Dobbiamo andare Dobbiamo sbrigarci Prima che sia troppo È già troppo tardi È già troppo tardi Ma sentite Ho fatto tutti questi sforzi Per arrivare a quella Cavolo di cassaforte E ora me la prendo Anche al costo di morire Ormai l'ho deciso Vai 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 Sbrigati Sbrigati Apri Ok Sbrigati ad aprirti Sbrigati No perché è così lenta Mamma mia che ansia che mette Sembra GTA questa cosa comunque Rapina alla banca Oh mamma mia Questo sì che è un bel tesoro però eh Oh oh Guardate quante cose ci sono C'è anche un airdrop Ma che cavolo Perché c'è un airdrop Ok Ok Bene Dobbiamo andare Dobbiamo correre Però devo prendere le armi Perché se no ho sprecato soltanto tempo E il medikit Ci serve E poi 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 il cecchino L'ho preso E direi che possiamo andare via Direi che possiamo andare via Raga abbiamo la jump Fermi tutti Abbiamo la jump Ce la possiamo fare Arriviamo alla cima di questa torre Saliamo qui Vai Spacca Corri corri Ho solo 40 di vita Mi devo fare il medikit Ok Facciamoci il medikit E poi vogliamo Ho deciso Ragazzi la facciamo Ve lo giuro Ve lo prometto Su quello che volete Io riuscirò ad arrivarci Io riuscirò ad arrivarci Ora saliamo il più possibile Saliamo il più possibile così Bene 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 Dobbiamo arrivare al massimo dell'altezza ragazzi Perché se no non ce la farò davvero Che ansia questa partita Questa partita si può fare solo col secondo account Matti stop Ve lo dico eh Perché una cosa del genere Non sarebbe Mate Che cavolo sto a di Matematicamente impossibile Con il mio primo account Dato che trovo solo prolly Mentre qui trovo tutti i nabbi Per fortuna C'è nabbi Niente della mia forza Quindi si Praticamente nabbi Basta Voliamo via va 3 2 1 Fia Siamo molto attenti Perché in realtà Non è finita la cosa Guardate quanto dobbiamo andare lontani Dobbiamo arrivare nell'altra safe Praticamente Secondo me io trovo i nabbi qui Perché ci ho fatto 3 partite in totale Secondo me Poi siete liberi di crederci Oppure no No mi sparano Mi sparano No 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 Vai qui vai qui vai qui E bevi gli shieldini Vai qui e bevi gli shieldini Quello che mi spara adesso Ho paura non sia No no eh Butta lo scagnozzo Butta lo scagnozzo Butta lo scagnozzo Vai Ok Ragazzi Eccolo Pistola tamburo di mida Che ti credi di fare contro di me Eccolo un altro Ucciso anche lui Mamma mia ragazzi Questa pistola tamburo è fortissima Questa pistola tamburo è fortissima L'unico problema adesso è che abbiamo bisogno di vita Quindi ci prendiamo questi Ci chiudiamo un attimo qui Ci facciamo le bende E poi ci beviamo il pesciolino Inutile dirvi che nel caso Dovessi fare una vittoria reale Con la pistola tamburo Presa per la prima volta Sarò molto felice Ma soprattutto Sono consapevole Che i tizi che sto incontrando Sono tutti molto scarsi Proprio C'è non scarsi Gente che ha iniziato a giocare adesso Capite Perché il mio account Effettivamente Ha iniziato a giocare adesso Ve l'ho detto Questa penso sia la mia terza partita Dell'account Solo che era davvero L'unico modo Per avere questa meraviglia Fatta in arma La pistola tamburo di Mida Non c'era altra opzione O utilizzavo quest'account O non ce l'avrei mai fatta Perché considerate che Nelle partite normali Con gente forte forte Ci si buttano circa 50 persone 40 persone lì Quindi La vedo un po' improbabile Vincere così Più che altro Servirebbe una gran botta di fortuna Ora però Non ci resta che trovare altri nemici Dato che già li sento E trollarli un pochino Con questa bella arma Ciao amico Come va? Ma come ho fatto a lisciarlo? Ok Questa kill è mia Andiamo verso l'altro Raga ci vado davvero tranquillissimo Perché con un'arma del genere Non c'è davvero niente da fare Cioè guardate quanto spara veloce Se riesce a tenere la mira Perché smira molto eh Cioè se ne va dove gli pare St'arma Ma se la riesce a controllare È la più forte che esista Davvero Spara troppo veloce E toglie anche molto Non esiste una combo migliore Praticamente Appena avvistato l'altro nemico Che si beve E fa un grande errore Non bere mai gli shieldini così Oh eh Ti hai mai sfidato però E ora muori eh No l'ho lisciato Come ho fatto a lisciarlo? Ah questi Questi tizi fortunati Eccolo qui Ciao ciao Bene 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 Giampetta per noi Andiamo alla ricerca Degli ultimi due nemici E concludiamo questa partita Con una kill Della pistola a tamburo di mida La drum gun è davvero qualcosa di fantastico Hmm Ora che ci penso Potrei divertirmi anche con questo eh Ora vediamo Dai Intanto me lo prendo Siamo rimasti in due Uno vs uno No E allora l'ultima kill La devo fare per forza con questa Ragazzi Non c'è alternativa Con questa E magari anche Con una bella scatolina Che ne pensate? Si dire proprio di si Scatolina Is the new cespuglio In 2020 Non c'è alternativa Noi sciopate qualcosa Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Noi ci vediamo Grazie.